ciao questo è un nuovo video che è il solito che faccio sui film che riesco a guardare che anche se era un film del 2018 sono andato a recuperarlo solamente ultimamente perché essendo un re del 2018 l'hanno messo su qualche sulle solite magari piattaforme quelle magari più conosciute se qualcuno ha qualche come si dice qualche abbandonamento lo recuperare anche adesso che gli volevo dedicare questo video a summer of 84 che è come film film del 84 del 2018 che come film di produzione degli stati americani e del canada come paese di produzione che dura 1 ora e 45 quasi 1 ora e 43 di film che come genere solito magari thriller oro per questo sono andato a recuperarlo nel guardarlo che che a parte che maraine come film magari è come così dice come regia e di questo questo anno che will sell e altri due registi questo questo film come regia come trama proprio del film che ogni serie al kill come si dice ogni serie al kill e kill è il vicino di qualcuno e per il 15 che si chiama devi il pensiero di avere un serie al kill nella società è una prospettiva magari spaventosa ma entusiasmante entusiasmante ma rende allo stesso tempo che che impreda magari agli sconvolgimenti magari ormonali tipici dell'adolescenza questo devi e i suoi amici sognano eccezionali conquisti sessuali ma almeno finché non arrivano alle loro e che le notizie proprio di questo serie al kill di che per me che si perso deve convincere mai i suoi amici a indagare per incodare proprio il vicino di casa convinto che sia il colpevole che potrebbe avere ragione e magari nello stesso momento magari può essere magari la sua immaginazione magari per attivare magari cioè che più che altro magari parlava di questo su è basato su era questa la trama che parlava di questi 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 amici con magari questo ragazzo devi quello che morai che magari si vede magari più importante ma nel film che vuole magari come si dice che è arrivato questo serie archile ma nel film che si dice nella sua città e volete un po' inchioda e magari questo proprio il vicino di casa che magari la trama proprio di questo film è questa qua anche se magari c'era magari come si dice che questi ragazzi come come protagonisti però ci poteva morai anche sa che morai con la sua data d'uscita ho visto che è stata all'inizio proprio del all'inizio proprio del 2018 che più che più che altro morai questi gruppo di come stavo dicendo prima che è proprio la trama è proprio di questo gruppo di adolescenti di ponte morai anche odai un pericoloso morai questo alla fine questo serial killer che magari ne è complesso magari come trama e come è fatto magari questo film magari ci poteva magari anche stare che visto che lo sono riuscito a guardarmelo in questi giorni gli volevo tipo dedicare magari questo video che magari come al solito vi lascio sempre sempre sotto morai in descrizione sia il video trailer e magari il cast degli autori e che hanno partecipato morai in questo film e se riesco a morai qualche altra informazione più pro gli volevo morai dedicare questo video proprio a summer of 84 e niente che che dura qui è un'ora e quattro e cinque come film e niente che morai quello che potevo morai dire su questo film come l'ho già detta al massimo ci vediamo sicuramente morai più avanti con i miei soliti video che porto morai sul sul mio canale e niente per adesso morai e vi saluto ci vediamo al prossimo video ciao ciao